Si lancia un nuovo progetto per i talenti siciliani. Dobbiamo far sì che le risorse della regione siciliana rimangano in questa terra e possano essere sfruttate da chi produce all'interno del nostro territorio utilizzando le risorse umane che è questa bellissima terra. Abbiamo talenti di grande livello, abbiamo persone delle grandi intelligenze. Uno dei modi per sfruttare è proprio quello di far sì che i fondi regionali rimangano all'interno di questo territorio. Il Torbina Vorastars è alla quinta sua esperienza. Come vede questo progetto che si sviluppa al terreno? È un progetto di grande livello. Io devo ringraziare gli organizzatori che hanno ancora il coraggio di investire in questa terra. Il ringraziamento va loro da regione siciliana e dal stesso lato. La mia competenza deve stare a loro fianco promuovendo questo tipo di attività e sostenendo di tutte le loro esigenze. La Ormina ma la Sicilia ha bisogno di renditi presso l'info. Questo tutto anno per come si evince dal calendario sarà obiettivamente un anno di grandissima vita.